Inogastronomia, grandi ospiti, talk show, premi, mostre, elaboratori, musica, spettacoli e motoraduno internazionale inizia il conto alla rovescia per la sessantesima mostra nazionale del tartufo bianco di Sant'Angelo in Vado che torna con sette giornate dense di iniziative a partire dal 7-8 ottobre grazie a un percorso che attraversa il centro storico della cittadina. La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi a Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche ente che, come sottolineato dall'assessore all'agricoltura Andrea Maria Antonini presta un'attenzione particolare al tartufo come prodotto agricolo nelle sue fasi di filiera dalla trasformazione fino alla commercializzazione. Abbiamo da pochissimo, la settimana scorsa, costituito e per la prima volta riunito il tavolo della filiera quindi è la prima volta che avviene, risultato importante, in pratica sullo stesso tavolo si sono seduti rappresentanti del mondo tartuficolo, delle tartufaie, quindi sia i cavatori che i coltivatori del mondo commerciale, quindi è importante proprio radunare in un unico, diciamo anche incontro, momento di riflessione tutta la filiera. La volontà è quella di cercare sempre di più di da un lato proteggere il tartufo incentivare la produzione e l'altro aspetto importante è veramente iniziare a discutere sul tartufo tutto l'anno. La mostra del tartufo bianco, ha poi dichiarato il sindaco di Sant'Angelo Invado, celebra un anniversario storico in questa sessantesima edizione, aggiunto, cerchiamo di fare un salto in avanti alzando l'asticella di tutti gli eventi in programma e coinvolgendo la ristorazione e la gastronomia locale fondamentali per la valorizzazione del territorio. Avremo un premiato importante, una delle tre stelle Michelin, una delle poche tre stelle Michelin che abbiamo in Italia, mi sembra che sono undici, quindi abbiamo l'onore di averne una e di premiarlo. Avremo sempre nel solco dell'enogastronomia, nel secondo weekend, che è quello dedicato ai motori, un altro personaggio importantissimo nel mondo del turismo, diciamo così, perché poi ha un po' deviato le sue attività, però oggi è Bruno Barbieri, un grandissimo intrattenitore televisivo che comunque veicola il come fare turismo in Italia e nel mondo, e poi l'ultimo avremo un weekend dedicato all'imprenditoria. Il fulcro dell'evento, destinato al commercio del prezioso tubro e palcoscenico di talk, premiazioni e spettacoli, sarà Piazza Umberto I, da qui si snuderà il percorso del gusto verso Corso Garibaldi, mentre a Palazzo Mercuri l'arte si coniugherà all'alta cucina insieme a cuochi celebri, allestimenti dedicati, degustazioni e musica. Inoltre, quest'anno, la cucina della corte gastronomica sarà cura dello chef Marco Vegliò del ristorante Il Galeone di Fano, che preparerà menu ad hoc. Tra le novità dell'evento, una maxi frittata al tartufo, il 7 ottobre alle ore 19, e il bosco urbano, una mostra itinerante di alberi con cui il tartufo vive in simbiosi, non mancheranno gli spazi dedicati ai più piccoli, con i giochi e i laboratori, allestiti tutte le domeniche in Piazza delle Erbe. Cosa troveranno i visitatori in questa sessantesima edizione? Allora, troveranno tante mostre d'arte, troveranno quindi vari palazzi storici che vengono aperti solo e esclusivamente per questa occasione, quindi anche delle cantine monumentali dove sarà possibile degustare su cantine del Quattrocento. Troveranno una Domus del Mito, che è una casa romana del primo secolo d.C., che ha 800 metri quadrati di mosaici bicromi e policromi ed è uno dei ritrovamenti archeologici più importanti d'Italia degli ultimi 50 anni. E si gusteranno la voglia di perdersi nei vicoli per poi trovare delle piazzette dove ci sono comunque spettacoli, eventi, talk show. Venite, poi vedrete, poi deve essere anche una sorpresa, non possiamo dire tutto. Grazie a tutti.